Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Crasher Game E oggi siamo su Fallout Shelter Che è finalmente uscito per Android ragazzi Quindi potete scaricarlo da Play Store Prima era solo per iOS e finalmente è uscito anche per Android Facciamo Entra nel Vault Nuovo Vault, ok Ok, ora devi scegliere, non può cambiare L'idea del Vault però è Io non so cosa fare 169 facciamolo, lo so Mi ispira questo numero, 169 Ok Vai Complimenti, la Vault è che ha scelto te come sopraintendente del Vault 169 Che figata, si vede anche il Vault dietro Il Vault tiene la gente sicuro dai pericoli della zona contaminata Ok In qualità di sopraintendente Sopraintendente Vabbè Il tuo compito è espandere e gestire il Vault e mantenere gli abitanti e fammi legge Ogni stanza è legata da un parametro special, assegna gli abitanti e una specie Vedrà tutto per rendere felice Questo già lo sapevo La Vault attiva il tuo ragionamento in base ai tuoi risultati Ricorda di rendere felici i tuoi abitanti e tutto andrà bene Grazie, ok Una sola gioca che puoi migliare la fortuna di un abitanto È davvero figo questo gioco Ho visto già alcuni video È davvero davvero molto figo Ok, connessione, non ci interessa, vai vai Accedi, accedi, ok Ok L'audio forse è troppo forte, però Benvenuto nel nuovo Vault, sopraintendente Partiamo da un'azione di base, ok La prima cosa che è una stanza Tocca il ricordo del martello Ok, oggi faremo solo il tutorial, ragazzi Assegna... ok, il generatore Alla stanza è sempre inizio Ok Il generatore lo facciamo al piano di sotto Ok Ora ci servono abitanti E finché il generatore produca energia Guarda, nuovi abitanti sono presentati alla porta del Vault Eccoli là Controlliamo i nuovi parametri Di un abitante Tocca un abitante per vedere i suoi dati Thomas Curtis Vediamo cosa ha di speciale Forza 5, quindi lui è molto forte Ok Ok Ok, lo Lo mettiamo qui al generatore Ci sono anche i topi, che figata Come vedete, indossa la tutina del Vault Si apre il nostro Vault E lo facciamo entrare E lui andrà subito a lavorare Vediamo questa signorina Ora la segnite Ok Assegniamola subito senza guardarla Ok E abbiamo segnato i nostri due primi Uomini, umani Abitanti Guardate che figata, ragazzi Noi costruiamo tutto un Vault Se volete facciamo una serie Oppure Faccio solo questo piccolo video Ok, adesso cosa facciamo Se non sbaglio Ok Ora che gli abitanti sono al lavoro La stanza inizia a produrre risorse Tocco due volte una stanza Per guardare più vicino Guardate che figata Se hai bisogno di gente di risorse Extra Attiva la modalità sprint Tocco passando il sprint per aprirlo Ok Sprint Attiviamo Ok Ci danno i tappi Che sono I soldi di Fallout Tutti sapete Bene Hai completato il tuo primo sprint E hai ottenuto dei tappi Ok Costruisci una seconda stanza Costruiamo la seconda stanza Ok Ti serve una mensa Che produce cibo Tocco il logale Ok La creiamo La mettiamo al piano di sopra Ok Ora costruiamo un'altra stanza Depuratore d'acqua Ok Creiamo La mettiamo questa volta Dall'altra parte Ok Ottimo lavoro Ecco dire Cibo dell'acqua per avviare il tuo volt Controli indicatori di risorse Di cui hai bisogno Questi qua Qui sopra Guarda Altri abitanti Si sono presentati Alla porta del volt E sono anche tanti Vediamo Allora Conoscere quelle basse Continua l'espansione Tutto il volt Ricordati di mantenere I tuoi abitanti Vivi e felici Buona fortuna Ok Grazie Vediamo tu Jonathan Pratt Forza Costruzione Carisma Intelligenza Anche fortuna Vieni abitanti Inezione contaminata Per tenere le tappe Questi dei armi Ok Io te ti assegnerei Al nostro generatore Di Acqua Visto che Senza di gente E anche molta fortuna Tu Mary Newton Intelligente Anche percezione Anche lei la mandiamo Qui sotto Fammi la prende però Ok Ok Questi sono gli obiettivi Giornalieri Come vedete E ci sono Assegni ai tuoi abitanti Nella stanza adatta E segui una sprint E mando l'abitante Nella zona contaminata Ok Vediamo Lei Alice Frost Forza Carisma 2 Intelligenza 3 Mando i tuoi abitanti Sì 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 Io a te Ti manderei In questo momento No dai Mandiamo di Però non è molto È più carisma Ti mando Nel Nella mensa Tu Tyler Owens Forza Percezione Costruzione 2 Intelligenza Agilità Lui è molto agil Giornalieri E' molto agilità In esplorazione Vedo Gli abitanti Con un elevato parametro Fortuna Hanno la possibilità Di situare Sprint E' questo qui Quello che Speravo Percezione Clarissima Intelligenza Fortuna Facciamo una cosa A te Ti mando Qui sotto E a te A te ti mando Fammela prendere A te ti mando Immensa in questo momento Ok Adesso facciamo tutto Facciamo Facciamo i nostri Obiettivi Ok Ci danno la nostra Energia Ok Abbiamo 7 Abitanti Giusto Andiamo 1 2 3 4 5 6 7 6 Allora I nostri obiettivi Erano Questi qua No Dove sono gli obiettivi Questi No Questi sono i vestiti Questi qua Sì Allora Assegni ai due abitanti Di stanza adatta Migliorare le stanze Per di produzione Per ottenere più risorse Tocco l'icona della freccia Di nata destra Per per inviare la stanza Ah sì Adesso noi Miglieremo l'acqua Per esempio No Clicchiamo qui In nata destra E facciamo Migliorare Facciamo lo sprint Sì dai Facciamo lo sprint Successo Ok Allora Come si fa a uscire Ok C'è l'audio troppo forte ragazzi Andiamo nelle imbossazioni L'audio Davvero È fortissimo Eh la musica La musica È anche forte L'audio può stare La musica Ok Ok Adesso Qui Abbiamo una scatola Che ci danno Ogni tanto Che noi La sblocchiamo E Ci sono dei oggetti Eh davvero Interessanti Un vestito Tenuto della zona Tipo da barbone Ok Poi c'è Tappi Cento tappi Ok grazie Poi uno Stimp Stimp Ok E lo stimp A che cosa ci servirà Per mandare i nostri Uomini fuori E altri tappi Ok Le stanzi unite Possono ospitare Più abilitanti Di conseguenza Possono durare più risorse Ok Qua c'è un'altra persona Che bussa la nostra Nostra porta Forza Intelligenza Azzurità Fortuna 1 Dove ti mando Dove ti mando Ti mando Qua Hai utilizzato l'ultimo spazio Disponibile Per i bianni del vostro Costruisciati di un migliore Per le raccoglie Ok Ok quindi Facciamo Dormitori Lui ha detto Quanto abbiamo 700 passi Quindi Costruiamo 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 Dormitori Aumenta il numero Il massimo Di abitanti Per far crescere Ok Lo facciamo E Dove lo facciamo Vicino alla mezza Dai Ok Così almeno possiamo Ospitare più persone Ragazzi Questo video Finisce qui Spero che vi sia piaciuto Non so Se Così si sentite Di cose gentili Ok Fammi parlare Non so Se vi può piacere Questa Questa serie Io spero di sì Che non è Una vera e propria serie Volevo fare un video Su Su questo gioco Che aspettavo Che uscisse per android Finalmente uscito Ragazzi Se volete Che facci altri video Su questo gioco Ditemelo Scrivetevi nei commenti E Facete Tanti mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Se ancora non è fatto E noi ci vediamo A un prossimo video Bella ragazzi Scrivetevi al canale Scrivetevi al canale Grazie a tutti.